Io voglio fare un elogio e non certo perché sono rufiano o perché non lo sono, però siamo stati sotto le due curve e onestamente io pensavo di andare lì a prendere gli insulti. Io vorrei chiedere che cosa gli avete detto. No, noi non abbiamo detto nulla perché hanno parlato tutto loro e loro ci hanno detto che non si aspettano il primo posto, che si aspettano solamente che tutti noi mettiamo in campo gli attributi. Perché giustamente erano stacchi di vederli tifoseri ospiti festeggiare a casa nostra e detto questo però mi ha meravigliato. Io pensavo che fosse la solita, un po' come succede da tutte le parti, la solita gogna, andavi lì, prendevi gli insulti e invece ci hanno onestamente sorpreso. La prima volta che vedo che le curve sono quelle che sono più moderate, diciamo così. Quindi mi ha sorpreso piacevolmente questa cosa qua e spero che i ragazzi ne tengono di conto.